Entra nel vivo dopo lo stanziamento di 50.000 euro al CUS da parte dell'Aggiunta Comunale che hanno dato la sicurezza economica all'evento l'organizzazione dei campionati nazionali universitari che si svolgeranno all'Aquila dal 17 al 26 maggio. Il presidente del CUS dell'Aquila, Francesco Bizzarri, ringrazia l'amministrazione comunale e lancia un appello alla Regione Abruzzo per erogare il finanziamento assegnato. Saranno oltre 3.000 persone attese nel capoluogo abruzzese per la manifestazione sportiva tra atleti provenienti da tutta Italia, staff e accompagnatori. Tra le iniziative collaterali dell'atteso evento sportivo ci sarà l'organizzazione di un convegno sul tema sport e disabilità in programma il 20 maggio all'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila. A presentare l'incontro, Bizzarri, in veste non solo di presidente del CUS dell'Aquila ma anche di docente e Antonello Passacantando, coordinatore regionale di educazione fisica presso l'ufficio scolastico regionale. Tanti gli interventi e le manifestazioni previste. Il programma completo dell'iniziativa è disponibile al link www.cnu2019acu.it Il presidente del CUS dell'Aquila si ritiene soddisfatto per lo stanziamento del contributo da parte del Comune, ringraziando l'assessorello sport Vittorio Fabrizi per aver mantenuto l'impegno preso dall'amministrazione precedente. Si tratta di un evento molto importante per l'intero territorio che avrà un'occasione straordinaria in termini di ritorno di immagine ed economico, aggiunge Bizzarri. Ricordo che tutti gli hotel del comprensorio sono completi da mesi, in vista proprio di questa grande manifestazione sportiva. Gli atleti si sfideranno in diverse discipline, pugilato, taekwondo, rugby a 7, scherma, tiro a segno, calcio a 11, palacanestro, atletica, golf, lotta, tiro al volo.